Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Marvel Snap Pariamomi le like, condividete il video e schiedete al canale se no vi lascio l'hashtag MarvelSnap Con sotto i momenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata molto interessante E oggi andiamo a vedere un deck che ho testato tutta ieri ragazzi E mi ha fatto finalmente salire di un bel po' di punticini Ma andiamo a vedere intanto il deck e poi vi faccio vedere anche le statistiche oggi Oggi siamo bravi ragazzi Allora andiamo a vedere il deck come si chiama Eccolo qui, ce lo abbiamo davanti, lo troviamo immediatamente Dov'è? David Ronan, eccolo qua Allora vi zoomo il deck, eccolo davanti a voi Un deck molto interessante basato su David Dino e Ronan Molto versatile, o giochi uno, o giochi l'altro, o giochi tutte e due O giochi leader, quindi in ogni momento del deck è quasi impossibile che non gira E è pazzesco, poi vi faccio vedere il mio win rate di ieri Allora partiamo da Iceman 1-2 Giustamente sapete che fa aumentare il costo di una carta in mano all'avversario di uno Quindi ne rallenta il gioco Korg, stessa cosa, 1-2, manda una roccia nel mazzo avversario Quindi un rallentamento di una pescata Queen Jet, relativamente importante Serve a ridurre il costo di Sentinel Serve se prendiamo carte da fuori deck con Moon Girl A ridurne il costo, quindi a giocare più roba alla fine Poi abbiamo il nostro bellissimo mondo Baron Mondo, si chiamava un mordo, non mi ricordo Che praticamente non fa altro che aggiungere una carta dal mazzo dell'avversario nella sua mano E aumentare il suo costo a 6 Quindi molto fastidioso in alcuni casi Sentinel, Sentinel 2-3 che praticamente crea un altro Sentinel che arriva in mano Che se abbiamo il Queen Jet costa 1 in meno Mi diventa un 1-3 Mistica si può utilizzare come non utilizzare Nel senso che è una delle versatilità di questo deck Devil Ronan ha questa caratteristica E può essere utilizzata sia come Devil Dino con le Mistiche Sia Ronan raddoppiato Sia Devil Dino con Leader Quindi puoi fare tutte le combo Mistica è per fare la doppia combo della copia di Ronan O la copia di Devil Dino alla fine Quindi ne metti uno da una parte, uno dall'altra E hai tutti i aumenti Molto interessante sapere già che funziona in questa maniera 3-0 che copia l'effetto continuo dell'ultima carta giocata prima di lei Quindi basta giocare prima un Devil Dino e lei diventa un Devil Dino Ok? Maximus 3-7 per far pescare due carte nella mano dell'avversario Serve per potenziare il nostro Ronan E anche per bloccare le pescate seguenti al nostro avversario Moon Girl raddoppiare la mano Serve solo per raddoppiare la mano Oppure in rari casi per raddoppiare Mistica Poi White Queen 4-6 Prendiamo la carta con costo maggiore dal mazzo avversario Lo stessa cosa serve per aumentare la nostra mano E se abbiamo Queen Gert per avere una carta magari costa un po' meno Devil Dino Base del deck 5-3 che prende più 2 per ogni carta nella nostra mano Ronan al contrario 5-3 che prende più 2 per ogni carta nella mano avversaria Leader da utilizzare a fine partita Per andare a pareggiare e a vincere nei punti dove già siamo sicuri Ok? Quindi dove mettiamo leader andiamo a vincere E poi dove andiamo appunto a utilizzare le copie andiamo sempre a pareggiare Molto interessante questa cosa Pochi deck gli danno fastidio Voglio farvi vedere le statistiche prima di andare in gioco Ecco le nostre statistiche di win rate 59,46% con 5 ore e mezza di partite Perse per ritirata 13 Vinte per retreat 28 Le partite in cui ho snappato il 74,6% delle vittorie Abbiamo fatto snap Vittorie 55 cubi La media di 0,50 cubi a partita E la cosa interessante è che io non sono un grandissimo giocatore Quindi sbaglio molto spesso a snappare o a non snappare Quindi se sono riuscito io a giocarlo così potete riuscirci anche voi Ma direi di andare in gioco abbiamo parlato anche troppo Le dinamiche di questo deck sono molto e ripeto molto semplici Guarda caso ci hanno levato il devil dino Ma non è un problema perché abbiamo ancora il Ronan Ecco quello che vi dicevo Si può utilizzare in una maniera O nell'altra Quindi vuol dire che dovrò concentrarmi di più Su far pescare le carte al mio avversario Questa partita Perché se no giustamente Ronan non è abbastanza potente Abbiamo Ronan e il leader in mano Quindi già abbiamo diciamo la parte finale della combo Quindi ripeto bisogna far rimanere con tante carte in mano il nostro avversario E quindi bisogna gestire in una certa maniera Allora noi possiamo fare Baron Mordo O al centro o a destra Però io dovrei attivare Vormir sinceramente Va bene Mettiamolo centro per ora Ok un Hulk Buster su Deadpool Spero di poter copiare Deadpool con leader Se ci riusciamo è una bella manna Ok alla fine del turno vengono spostate in posizioni casuali Quello può essere un nostro grosso problema Ipoteticamente parlando io mi devo levare Vormir però Perché a lui è comodo Vormir A me è un problema Ok andaro di Killmonger L'avversario si è ritirato Perché? Allora ragazzi andiamo a provare questo deck Devil Ronan Oppure chiamato anche Flexibility Addirittura è il nome originale Perché è il deck flessibile Perché può fare la sua combo in diverse situazioni Oh cavolo Da un po' non vedevo miniera collassata Direi che a sto punto posso saltare un turno Per far esplodere miniera collassata Sperando che il nostro avversario non è in destruction Perché se no c'ha death gratis E se non la usa a fine turno noi abbiamo perso Ok posiziona qui una carta da ogni giocatore Ci ha dato Gorg a noi e lui Human Torch Ok sappiamo che tipo di avversario abbiamo contro Ok Ipoteticamente parlando Noi abbiamo la combo con Devil Dino in mano Quindi sarebbe il caso di utilizzare Sentinel E non Baron Mordo Perché dobbiamo aumentare di più la mano Multiple Man centro Ipoteticamente noi dovremmo giocare sinistra e destra Ok E' successa una cosa in parte positiva Ma proprio in parte Ehm Doro Mundo Oppure andiamo di Maximo si facciamo pescare l'avversario Oppure potremmo pescare con White Queen Abbiamo varie possibilità Sinceramente io farei White Queen destra Così la mano per Devil Dino ce l'abbiamo carica Ehm Dull lui ce l'ha in mano Adesso lo sappiamo Multiple Man lo clonerà sicuramente sulla sinistra Questo è Contiene la forza di tutte le carte distrutte durante questa partita Non sono stati distrutte carte Però è strano Perché dovrebbe avere del potenziamento Le pietre sono carte Ok Allora Possiamo Ripeto Devil Dino Sulla sinistra Così andiamo a vincere su due zone Lui tanto lì andrà di Eimdall per spostare Molto scontato E il problema è che quella zona si sta potenziando parecchio Il centro l'abbiamo in svantaggio Ipoteticamente non sto ammesso bene E dovrei optare per una scelta tattica particolare Nel senso che Visto che lui andrà a fare spostamento con Eimdall E qui rimarrà Eimdall e il 7 Potrei andare proprio con Ronan Sposto 5 Perché se vado con leader Copio Eimdall e sposto tutto E quindi questa partita non posso usare Eimdall Andiamo di Ronan E speriamo di farcela Vediamo un po' che succede Eimdall sposta tutto Perfetto Human Torch si potenzia Il delay è un 15 Dovremmo aver vinto Devil Dino Ronan 16-16 Portata a casa contro un movement Come avete visto nella partita precedente Va in base a come gira la partita Quindi questo deck lo potete utilizzare con 3-4 combo diverse In base alla situazione Tipo adesso io ho Ronan e Maximus Quindi ho la combo Del far pescare più carte all'avversario Tramite Baron Mundo Scusate Baron Mordo E Ronan col Maximus Abbiamo anche Devil Dino Però attualmente è secondario Perché noi andiamo a metterlo su Cittadella di Oslo Il nostro Ronan Probabilmente E facciamo questo subito Bello scherzetto Gli diamo una carta a costo 6 in mano Molto spesso scappano anche per quello Perché magari gli avete messo una carta importante a costo 6 Possiamo andare o con Maximus Però adesso c'è a mano piena Quindi potremmo pure non farlo E potremmo andare a sprecare una carta per cominciare a mettere subito qualcosa di più grosso Quindi leviamo Morbius Perché a noi non interessa Avere carte potenziate di Iskard E neanche all'avversario sembrerebbe E possiamo avvantaggiarci di un turno L'evocazione di qualcosa di grosso Nel senso che Posso andare immediatamente di Ronan al quarto turno E magari al turno successivo andare di Mystica Maximus E poi andare di Leader Quindi esagerare effettivamente la nostra partita Il nostro vantaggio Ecco lui sta sfruttando il Sentinel Come sacrificio per il prossimo turno Evocare roba grossa Quindi Ipoteticamente parlando Io nel prossimo turno Sarei stato in vantaggio Giocando Non il Maximus Ma un Leader Ok Vediamo un po' cosa mi posso inventare Io potrei fare Mystica Destra Però mi costa 3 E rimango con 2 liberi E gioco Sentinel Ok E' un Devil Dino anche lui Per cui lo ha cercato di prendere vantaggio Però noi abbiamo un vantaggio in più Che noi possiamo giocare effettivamente Devil Dino Oppure andare a giocare Maximus E alzarci il costo del Ronan In maniera esagerata Perché adesso abbiamo 8 E lui no Ok Il centro lui ce l'ha completo Quindi Ipoteticamente parlando Non può andare a destra Deve andare per forza a sinistra E Dobbiamo per forza prendere vantaggio centro Noi Quindi Possiamo alzare Con Maximus Che sta a 7 Già Non ha il doppio Devil Dino Perché non ha raddoppiato Quindi io potrei andarci anche abbastanza leggero E Giocarmi una carta Siamo un po' Magari facciamo Devil Dino E Maximus Sulla sinistra A fianco a Ronan Neppo E vediamo che succede Dipende tutto dal nostro avversario Io le carte in mano ce l'ho Quindi Dovrei arrivare a quel 27 In realtà Se lui gioca diverse carte Anche se fossero 2 Con Maximus Se gliele faccio ripescare Ne ha giocata una sola Leader Immaginavo Nessun problema per noi Perché lui Devil Dino Già ce l'aveva al centro Quindi abbiamo vinto Un 38-32 Ecco come funziona il deck Altra partita per noi Vediamo un po' Come la va Il possiede meno forza Qui in questo campo vince Molto limitante Tanto limitante L'unica opzione che avremo Sarebbe quella di giocarci sopra Che però ho sbagliato A sto punto La Queen Jet Non la dovevo giocare proprio Abbiamo seri problemi ragazzi Perché dimensione oscura Ugualmente ci crea Un limite problematico Che però Forse lo potremmo sfruttare Con Maximus Nel senso che Le due carte finali Se arriva Il personaggio che ci serve Le possiamo far pescare A fine partita Con Ronan Oppure dobbiamo andare Su Asgard e pescare Però Noi abbiamo Devil Quindi Potrei anche Arrangiarmi Un bel sentinel Io non posso giocare Su bar senza nome Neanche lui Quindi stiamo Molto stretti Io ho paura Che lui sia Un deck Che conosciamo bene E quindi Opterei Per alzare il tiro A sinistra Che è qui Scusatemi E il Devil Dino Lo dovremmo giocare Al centro Per forza di cose Ok Kazar Oddio Che deck Si è fatto Questo E non ci arriviamo Quindi pesca lui Peccato Non riusciamo neanche A stappare In quella maniera Eh Questo è un problema grave Regà Molto grave Spodeticamente parlando Dovremmo aver perso Né di più Né di meno Dipende tutto Dal turno decisivo E forse dipende tutto Dal leader Cosa copia Eh Vediamo Devil Dino Giustamente È potente Leader Ha copiato Oslo Che ha raddoppiato Devil Dino Ipoteticamente Parlando Dovremmo aver vinto Vediamo un po' 35-26 Sì Dovremmo aver vinto Portate a casa Ragazzi Questo era il deck Che vi volevo mostrare Il Devil Ronan Un deck Veramente interessante Con un'ottima percentuale Di win rate E se lo riesco a giocare io Lo potete giocare Tranquillamente Anche voi Riamo a mille like Condividete il video Iscrivete al canale Se no io Lascio l'hashtag Marvossnap Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E in descrizione Trovate il link Al deck